Ben tornati in compagnia ragazzi, come vedete dalla mappa siamo praticamente a sud di Siwa c'è una missione secondaria che si chiama cerchio di pietre di Amon c'è anche Senu papà, perché ci sono tanti poveri in Egitto, però gli stranieri che vengono qui sono ricchi l'Egitto ha scordato la sua storia, tanti preferiscono la ricchezza all'onore, ma così facendo perdono entrambe quindi in sostanza ragazzi qui ho quattro punti che sono effettivamente quattro stelle come vedete le posso fare anche ruotare devo cercare la loro corretta posizione all'interno della volta celeste però lì a sinistra c'è una forma che richiama un pochino quella delle nostre stelle vediamo se funziona un po' così a caso preso in pieno abbiamo beccato Amon abbiamo beccato Amon abbiamo beccato Amon abbiamo beccato Amon